Sono undici gli uomini a morire per mano dei fascisti il 26 agosto del 1944. A Camerlona furono fucilati Erminio Salvatori, Pietro Lucci, Lino Mascansoni, Angelo Lolli, Stefano Miccoli, Vincenzo Zanzi, mentre gli altri cinque del gruppo furono prima gettati in un basso comodo a Camerlona, oggi ricordato da una targa in mosaico realizzata dagli allievi dell'Istituto Nervi Severini di Ravenna, e poi portati a Savarna, dove il giorno dopo furono impiccati Aristide, Luciano e Nello Orzini, insieme a Giuseppe Fiammenghi e Ivo Calderoni. A commemorare il 72esimo anniversario degli eccidi di Camerlona e di Savarna, una serie di iniziative, organizzate dall'AMPI con il patrocinio del Comune di Ravenna e del Comune di Lugo, a cui hanno presenziato l'assessore Fabrizio Casamento di Lugo, i segretari dell'AMPI di Mezzano, Medarda Gian Stefani e di Savarna, Milvia Baldrati, insieme a Gian Antonio Mingozzi, capogruppo PRI Consiglio Comunale di Ravenna, e al sindaco di Lugo, Davide Ranalli. L'apporto, il riscatto che è stato fatto da queste persone nei confronti appunto del nostro paese, è stato fondamentale e quindi oggigiorno, se noi possiamo vivere ancora in libertà e in democrazia, lo dobbiamo anche a loro, questo ce lo dobbiamo sempre ricordare e non dimenticare mai, e soprattutto dobbiamo trasmetterlo ai nostri figli, ai nostri nipoti, e questo è importante. Grazie a tutti. Grazie a tutti.